siamo in indonesia a jakarta questa è una zona centralissima però è il centro misto tra super lusso e degrado qui abbiamo la spazzatura qua abbiamo le fognature a cielo aperto la fogna dappertutto la fogna che sgorga lì sotto dove c'è un rivolo d'acqua e lì abbiamo uno che con l'acqua della fognatura sta sciacquando i bicchieri si incazza proprio sto filmando ecco qua un po un po eccoli qua sti zozzoni guardatevi